Ciao a tutti ragazzi, oggi nuovo unboxing, unboxo qualcosa che è legato al mondo dei videogiochi ma non è un vero e proprio videogioco, ovvero questa si tratta della statua Bishoujo di Kami realizzata da Kotobukiya, presa da Street Fighter, in questo caso da Ultra Street Fighter 4, e era già uscita la Chulli circa 6 mesi fa e oggi mi è arrivata la Kami disegnata da Yamashita, veramente veramente bella, adesso la vado ad unboxare, andiamo a vedere la Kotobukiya cosa ci offre con questo nuovo modello della linea di Street Fighter che verrà seguito da Yuri e Poison, che non so ancora se acquisterò Yuri, sicuramente Poison, che è un gran PG, cerchiamo di aprirla senza rovinarla ragazzi, che non è mai troppo easy, ecco fatto, adesso andiamo a vedere, andiamo ad aprire e addestrarre la splendida Kami, metto a posto, ecco qui, allora questi li faccio vedere al volo, li faccio vedere qua, facciamo prima, si tratta di cartoncini da mettere nella basetta, sono presenti in tutte le Bishoujo, quantomeno quelle dei Picchiaduro, che io sto acquistando anche quelle di Tekken eccetera, per colorare la basetta, sono presenti due immagini, una del personaggio, una semplicemente con il logo del gioco, per quanto mi riguarda io preferisco tenerla con la basetta liscia, diciamo, cioè senza scritte, quindi non farò i cambi, adesso andiamo a togliere la plastica che ricopre il prodotto, ecco, prendiamo la basetta, vediamo la plastica anche dalla basetta, non ci interessa un momento, ecco qui, allora, perdonate se vedete la mia pessima faccia, questa è così, uno e uno due, ecco qui, potete ammirare la figura di Kami nella sua pose plastica, adesso andiamo sul lato B, che sicuramente tutti voi apprezzerete, non sono molto professional, la giro con le mani, invece che avere la basetta figa che la fa girare, però, bene, però vedrò anche a quella, e adesso andiamo, visto che di coppia pur sempre si tratta, andiamo a prendere anche la Chun-Li, per posizionarle, ecco qua, nella loro scena di lotta, come andranno anche nella mia vetrina. Io vi saluto, ci vediamo col prossimo video, mi raccomando, se siete interessati ai videogiochi, action figure, eccetera, 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 rimanete sintonizzati, iscrivetevi, e non mancate, aspettate che così mi vedete anche a me, e non mancate di commentare. Ciao!